Ci siamo radunate mercoledì e abbiamo fatto appunto un allenamento di reparti, quindi tre quarti hanno lavorato con Nanni, noi con Plinio per quanto riguarda le tush, e devo dire che è andato molto bene, comunque l'umore è sereno e tranquillo, quindi abbiamo iniziato credo col piede giusto. L'obiettivo del 6 nazioni sarà ridurre i falli, in quanto appunto abbiamo notato che ne facciamo troppi, quindi potrebbe essere comunque un nostro punto debole, quindi l'obiettivo è ridurre sicuramente appunto i falli e poi scenderemo in campo per portare a casa naturalmente tutte le partite. Sappiamo che Francia e Inghilterra sono le due partite più dure, però credo che abbiamo dimostrato negli anni di poter essere comunque delle avversarie anche noi dure, quindi sicuramente scenderemo in campo per vincere e portare a casa le partite. Le prime partite ci serviranno per ritrovare un po' quella che è la nostra identità, in quanto c'è stato il cambio allenatore, ci sono state tante che hanno smesso, che comunque erano dei punti fermi nel campo e sono arrivate nuove ragazze, quindi comunque dovremmo ritrovare la confidenza, la fiducia nel gioco e mettere appunto in atto da subito il nuovo piano di gioco e quindi diciamo dimostrare che comunque il gruppo è ancora unito e che è valido nonostante appunto tutte le nuove ragazze che sicuramente apporteranno quel valore in più. Per quanto riguarda il quarto di finale della Coppa del Mondo, sicuramente siamo felici del risultato che abbiamo raggiunto, anche se appunto speravamo di arrivare in semifinale. e naturalmente di quella partita c'è un po' di rammarico perché pensavamo di riuscire a essere più competitive e loro hanno fatto comunque la partita perfetta, quindi hanno portato giustamente a casa il risultato e però sicuramente di tutta l'esperienza un sogno realizzato perché penso che andare a vivere il primo mondiale della mia vita in Nuova Zelanda sia un sogno nel cassetto di tanti atleti e atlete e poi comunque tante emozioni dentro al campo ma anche fuori dal campo con tutto il gruppo e alla fine abbiamo raggiunto un risultato storico quindi è stata comunque la ciliegina sulla torta. Gli insegnamenti sicuramente che mi rimangono sono il non mollare mai e la partita contro gli Stati Uniti che è stata la prima, non è stata la dimostrazione perché sapevamo che era una squadra dura forse anche la partita più difficile che avevamo ma siamo entrate in campo credendo in noi stesse e la partita l'abbiamo portata a casa e a livello di gruppo è che siamo un gruppo fortissimo e che finché rimaniamo unite sicuramente soprattutto in campo finché ci aiutiamo tra di noi viene tutto più facile perché nel momento in cui magari qualcosa non va lo sguardo di una compagna, un sorriso o anche una pacca sulla spalla ci tranquillizzano e ci portano ad andare avanti a dare il meglio di noi, per noi e per tutte le altre che sono in campo e non.